A Luvione di Vibo non ci sarà giustizia né per le vittime né per gli imputati che non è detto siano colpevoli. Il processo fermo da due anni per la carenza di giudici e i reati contestati si avviano verso la prescrizione. Disperso a Simeri appello al ministro, il videomessaggio che sui social network ha lanciato la moglie di uno dei pescatori usciti in mare per una battuta di pesca e mai più tornati a casa. Fondazione Campanella Out del Mille Proroga, l'emendamento al decreto non passa, non ci sarà il finanziamento atteso per il sostegno ai lavoratori, intanto prendono posizioni i dirigenti medici del polo oncologico. Primaria Vibo e Rush Finale, alle battute conclusive la campagna elettorale in vista della consultazione del centro-sinistra. I protagonisti tornano domani a confrontarsi negli studi della C. La testa leonina e romana, due anni e mezzo dal ritrovamento del prezioso reperto lungo le coste della Locride, gli esperti dell'Unical hanno reso noti i risultati del loro studio. Buonasera a tutti e bentrovati. In apertura del nostro telegiornale parliamo della tragedia, dell'alluvione di Vibo, perché il processo si avvia verso la prescrizione. Il procedimento penale per il disastro che il 3 luglio 2006 provocò morti e danni per milioni di euro è praticamente fermo da due anni a causa dei problemi atavici di cui soffre la giustizia vibonese. Non ci sarà verità giudiziaria, non di questo passo. Non avranno giustizia così né le vittime né i loro cari. Non avranno giustizia così neppure gli imputati che non era affatto detto siano colpevoli. Un lavoro investigativo laborioso e costoso poi, quello prodotto dalla procura di Vibo e dalla polizia giudiziaria, che rischia di andare a farsi benedire. Ciò perché legge lo spettro della prescrizione sul processo per la tragedia dell'alluvione che il 3 luglio 2006 ha provocato a Vibo nelle sue frazioni tre morti, 90 feriti e danni per 200 milioni di euro. Dopo oltre un anno e mezzo di stasi per mancanze di giudici, a oltre due anni del rinvio a giudizio degli imputati e a nove anni dei fatti contestati, a causa dell'onomala composizione del collegio giudicante, il processo è stato oggi rinviato al prossimo 30 aprile. Così, dopo il viavai di giudici e rallentamenti dovuti alle solite ataviche problematiche che affliggono la giustizia vibonese non solo, la prescrizione dei reati si avvicina sempre più. 15 gli imputati che rispondono a vario titolo, di disastro, inondazione e omicidio colposo, oltre all'omissione in atti d'ufficio. Parti civili e familiari delle vittime, 17 privati cittadini, il WWF e il legambiente, che chiedono il risarcimento di un danno provocato alla sinistra mano dell'uomo, che dagli anni settanti in poi, tra abusivismo edilizio e carenza di interventi di tutela della sette idrogeologico, ha reso quello che un tempo nel giardino sul mare, uno sfasciume pendolo, per dirla con Giustino Fortunato, inondato di acqua, fango e dolore, nel giorno in cui, dal cielo, venne giù un diluvio. Lo Stato non ci abbandoni, è questo l'appello lanciato al Ministro Pinotti, dalla moglie di Giuseppe Parrodi, disperso in mare a Simeri, assieme ad Angelo Tavane e Francesco Orania, il 27 luglio. Sentite. Perché, quando è stata ritrovata la barca, la magistratura non ha ordinato l'ispezione dei fondali? Ora le faccio io personalmente la richiesta pubblicamente, Ministro Pinotti. A parlare sono Rosetta Tarantino e l'Avvocato Maria Costa, che domani saranno ricevute dai senatori del Movimento 5 Stelle, Bruno Marton e Vincenzo Sant'Angelo. Rosetta Tarantino e la moglie di Giuseppe Parrò, uno dei tre dispersi in mare dal 27 luglio in località Simeri Mare nel Catanzarese, insieme ad Angelo Tavano e Francesco Orania. I tre, dopo essere usciti in barca all'alba di una mattina per una battuta di pesca, sono spariti nel nulla. Dalla pagina Facebook, un grido d'aiuto per Giuseppe, la donna ha pubblicato un nuovo videomessaggio rivolto al Ministro della Difesa, Roberta Pinotti, che il 4 febbraio ha risposto al primo appello pubblico di Rosetta. Nel video la moglie di Parrò, parlando anche a nome dei figli, ripropone la richiesta di effettuare delle esercitazioni marine nella zona in cui il cellulare del marito ha emesso l'ultimo segnale e dove la barca è stata ritrovata. In questo modo, dice Rosetta Tarantino, si potrebbero perlustrare i fondali senza costi esosi. L'ipotesi della moglie di Parrò è che il marito, assieme agli altri due dispersi, sia rimasto intrappolato sul fondo. Importante per la donna è che le istituzioni si mettano una mano sul cuore per aiutare a recuperare quello che può essere rimasto del corpo di suo marito. E ancora cronaca, parliamo di emergenza suina, un decesso alla Mezzia. Si tratterebbe di un 73enne che avrebbe presentato già un quadro compromesso. Tutti gli altri casi sono stati trasferiti all'ISMET di Palermo e salvati con il polmone artificiale. Sentite. Ci sarebbe anche un decesso tra i casi di influenza suina accaduti alla Mezzia Terme. Si tratterebbe di un uomo lametino di 73 anni. A provocare la morte sarebbe stato il virus H1N1 che avrebbe però trovato terreno facile in un quadro clinico grave e complesso, compromesso da una cardiopatia ischemica e da una broncopneumatia cronico-istruttiva. La morte sarebbe avvenuta lo scorso 31 gennaio. Un altro caso sarebbe invece avvenuto lo scorso 28 gennaio. Si sarebbe trattato di un 36enne di placanica che dopo gli accertamenti del caso sarebbe stato trasferito a Palermo nell'istituto ISMET specializzato nel trattamento di casi simili. Il virus avrebbe colpito anche un sessantenne di feroleto antico che dopo l'arrivo nel nosocomio lametino sarebbe stato trasferito prima al pronto soccorso di Messina e successivamente all'ISMET di Palermo. Itersimile anche per un cinquantenne di badolato che è ricoverato nel reparto di malattie infettive di Lamezia dopo un giorno è stato trasferito all'ISMET palermitano. L'ISMET istituto mediterraneo per i trapianti è tra i pochi nel meridione ad occuparsi di simili emergenze. Ai pazienti è stato immediatamente applicato l'ECMO, polmone artificiale che ossigena il sangue dall'esterno permettendo al polmone di guarire dal danno subito a causa del virus. I carabinieri di Pentone hanno posto sotto sequestro il palazzetto dello sport di Sant'Elia dove gioca il Catanzaro Calcio a 5 in forza ad un'ordinanza firmata dal GIP su richiesta della procura di Catanzaro che ha avviato un'inchiesta dopo alcune lettere anonime che contestavano l'inagibilità della struttura. Voltiamo pagina, torniamo a parlare della fondazione Campanella, out dal mille proroghe, l'emendamento al decreto presentato dal governo per il sostegno ai lavoratori è stato bocciato perché inammissibile. Sul caso l'intervento pubblico dei medici, sentiamo. Non c'è spazio per la fondazione Campanella nel decreto mille proroghe, inammissibile. Secondo i relatori l'emendamento presentato in extremis del governo è perorato dai parlamentari calabresi di PD e nuovo centrodestra per destinare un milione di euro per il sostegno al reddito dei lavoratori del polo oncologico di Germaneto in commissione alta tensione. Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia si sono scagliati contro PD ed NCD per un provvedimento considerato inutile dal sapore clientelare. Da qui la decisione dell'esecutivo di ritirare la proposta. Si cerca ora una via alternativa per sostenere i dipendenti. Ciò mentre pende la richiesta di fallimento avanzata dalla procura di Catanzaro sulla fondazione e l'indagine della stessa procura sui bilanci. Sul futuro della Campanella intervengono anche i dirigenti medici che hanno diffuso una nota nella quale chiedono alle istituzioni di fare chiarezza su questa storia. Che ha dell'inverosimile che comunque danneggia solo gli ammalati ed i loro parenti che restano attoniti di fronte a tale malasanità chiaramente manifesta. I medici evidenziano che c'è una politica bipartisan che da tanti anni studia la soluzione del problema su come chiudere la struttura forse per privilegiare strutture private da Reggio Calabria a Cosenza passando per Crotone e Catanzaro. L'assessore regionale allo sviluppo economico e lavoro Carlo Guccione ha preso parte oggi a Roma ad un incontro convocato nella sede del Ministero dello Sviluppo Economico alla presenza del sottosegretario al lavoro e dalle politiche sociali Teresa Bellanova per discutere dell'avvertenza InfoContact SRL. Nel corso dell'incontro i commissari straordinari InfoContact hanno reso noto che a conclusione delle procedure di gara sono state individuate le due migliori offerte disponibili a subentrare alla società InfoContact sia per quanto riguarda la gestione dell'insediamento di rende che per quello di la mezzia terme. Dopo questo primo importante passo in avanti si apre adesso la fase negoziale tra le organizzazioni sindacali e le imprese subentranti al fine di salvaguardare i livelli occupazionali. Ed ora parliamo dell'amministrazione provinciale di Vibo Valenzi e lavoratori senza stipendio ed è polemica tra il presidente Niglia e i consiglieri Papillo e Barbalaceo. Vediamo. Continua ad oltranza la mobilitazione dei dipendenti dell'amministrazione provinciale di Vibo Valenzi da giovedì in stato di agitazione. Una protesta riesplosa in tutta la sua drammaticità dopo l'ennesimo ritardo nel pagamento dello stipendio. E oggi è la protesta dei circa 400 padri e madri di famiglia. Si unisce la polemica tutta interna tra il presidente dell'ente Andrea Niglia e i consiglieri Vitaliano Papillo e Franco Barbalace. Re, afferma a Niglia, di sollevare sterili polemiche e di strumentalizzare politicamente una situazione che per i lavoratori della provincia e le loro famiglie è ormai divenuta drammatica. A fare scoppiare la querelle l'incontro di ieri a Palazzo Le Manni tra una delegazione di lavoratori e il vice presidente della regione Calabria Enzo Ciconte. L'assenza del presidente Niglia al tavolo regionale non è andata giù ai due consiglieri che lo hanno fortemente contestato. E la risposta di Niglia non si è fatta attendere. La tutela e la salvaguardia del posto di lavoro dei dipendenti della provincia, dice il principale inquilino di Palazzo Exenel, così come l'impegno a risolvere al più presto il problema degli stipendi, rappresentano una priorità del presidente e della stragrande maggioranza dei consiglieri provinciali. Peculato alla provincia, inchiesta chiusa, l'avviso di conclusione delle indagini firmato dal PM Sir Giovanni nei confronti di otto ex amministratori e dirigenti finiti sotto i riflettori della magistratura per la presunta indebita appropriazione dei fondi destinati ai gruppi consigliari. Contestazione di reato peculato. Un'azione criminosa, spiega il sostituto procuratore Michele Sir Giovanni nell'avviso di chiusura delle indagini notificato ad otto indagati, realizzata con più atti esecutivi di un medesimo disegno, ciò allo scopo di agevolare l'appropriazione di somme per complessivi 73 mila euro. La prima tappa dell'inchiesta dalla procura di Vibo Valencia sui fondi che sarebbero stati indebitamente fagocitati dai gruppi consigliari dell'amministrazione, poi decaduta a fine 2013 in ragione della mancata approvazione del bilancio, giunge al capolinea. Stralciate le posizioni dei singoli consiglieri, l'avviso di chiusura indagini è stato notificato all'ex presidente della provincia Francesco Denisi, agli allora dirigenti dell'ente Antonio Vinci ed Armanda De Sossi, al presidente protempore del consiglio provinciale Giuseppe Barilaro e agli allora componenti della conferenza dei capigruppo Giuseppe Raffaele, Francesco Filippis, Giuseppe Condello e Carlo Brosio. L'inchiesta ebbe inizio dopo la scoperta del milionario a manco nelle casse dell'ente imputato alla dipendente Reoconfessa Mirella Currò in concorso con altre persone oggi sotto processo penale. Avviata con il contributo dei finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Vibo e del nucleo di polizia valutaria di Reggio, ha portato l'ufficio guidato dal procuratore Mario Spagnuolo ad accendere riflettori su ogni determina partorita dalla provincia di Vibo, comprese quelle che destinavano risorse e gruppi consigliari, poi destinate, secondo gli inquirenti, alle attività più disparate, dalle sagre paesane alle società sportive, comunque sia lontane dai fini istituzionali per cui erano state stanziate. Ed ora la politica vibonese ormai alle battute conclusive, la campagna elettorale per le primarie, vediamo su quali proposte puntano i tre aspiranti sindaci del centro-sinistra. Ultimi giorni di campagna elettorale in vista delle primarie del centro-sinistra a Vibo Valencia per le prossime elezioni amministrative. I tre candidati si apprestano al rush finale. Acqua potabile, emergenza rifiuti, lo sviluppo del porto, le politiche giovanili, l'assetto istituzionale del comune rimangono le tematiche affrontate dai contendenti. Antonio Loschiavo prosegue la sua campagna elettorale fra i giovani, partecipato al confronto del candidato del PD con gli studenti delle scuole. Vibo Valencia, ha sostenuto lo schiavo, deve tornare ad essere una città dinamica, vivibile, che guarda al futuro perché la pagina più bella di questa città deve ancora essere scritta. Punta sul piano europeo garanzia giovani Francesco Colelli, nella convinzione che le risorse comunitarie non debbano andare più sprecate. Il progetto è finalizzato ad incentivare l'autoimprenditorialità giovanile in una serie di settori, tra i quali anche la cultura. Pietro Giamborino, dopo aver inaugurato la propria sede con tanto di benedizione sacerdotale, continua invece a puntare sulle proposte che hanno caratterizzato sin dal principio la sua campagna elettorale. Rilancia la figura del prosindaco e promette di scommettere su un comitato di saggi. Lo schiavo Giamborino e Colelli torneranno a confrontarsi nel pomeriggio di domani sulla C, con diretta a partire dalle 15.15. Il centro-destra si compatta intorno ad Elio Costa. Come è ampiamente preannunciato, anche Forza Italia si appresta a sposare la causa dell'ex magistrato. Sentite. L'annuncio ufficiale è ormai questione di ore. Nelle amministrative della prossima primavera, il centro-destra vibonese farà quadrato intorno all'ex magistrato Elio Costa. Presto saranno sciolte le ultime riserve ed anche Forza Italia darà il proprio assenso. Il partito di Silvio Berlusconi è pronto dunque a rinunciare ad una candidatura propria. All'altare di Costa verrebbero sacrificati tutti gli aspiranti sindaci della compagine, a cominciare da Maria Limardo, che per prima aveva espresso la volontà di giocarsi in prima persona la partita per Palazzo Luigi Razza. L'accordo con Elio Costa dovrebbe essere sottoscritto nelle prossime ore a Roma, al cospetto dei vertici nazionali della compagine che fa capo a Silvio Berlusconi. L'ex sindaco di Libo Valenzi andrebbe così ad aggiungere un'altra importante freccia al proprio arco. Nei giorni scorsi, seppur informalmente, è stata infatti chiusa in modo positivo la trattativa con l'NCD di Alfonso Grillo e con l'Udc di Ottavio Bruni. Pronte anche due o forse tre liste civiche. Una verrebbe messa a punto dalla ConfCommercio, l'altra dal consigliere comunale uscente Stefano Luciano ed una terza dallo stesso Costa, ormai lanciato alla riconquista di Piazza Martiri d'Ungheria. A destra rimarrà il distinguo solo di Fratelli d'Italia. Il partito che fa capo al sindaco uscente potrebbe schierare dopo varie rinunce, ultima in ordine di tempo, quella dell'assessore ai tributi Nicola Manfrida, il senatore Francesco Bevilacqua per una difficilissima corsa in solitaria. Non si placano le polemiche sulla città metropolitana di Reggio. Il presidente della provincia, Raffa, invita a coinvolgere i territori per creare una nuova governance, mentre il sindaco della città dello stretto Falcomatà invita a guardare con fiducia al nuovo modello istituzionale. Non si placano le polemiche sulla città metropolitana. Dopo gli affondi dei sindaci della Locride e del presidente di Confindustria, anche il presidente della provincia Giuseppe Raffa avverte che bisogna coinvolgere i territori, gli amministratori e soprattutto tutti gli attori istituzionali. In questo percorso, che porterà al nuovo livello di governance, viene ribadito in modo deciso il dovere e la necessità di partecipare in modo convinto. È chiaro che i territori si ribellano a quelle che sembrano e sono, purtroppo, iniziative estemporanee sganciate da qualsiasi logica senza alcun supporto giuridico. Non dimentichiamo, e questo è giusto ribadirlo, che è un nostro territorio che ha tanti punti di forza, ma ha tanti punti di debolezza. Se a questi punti di debolezza si innestano, purtroppo, percorsi che hanno poco a che fare con la virtuosità del processo e soprattutto si innestano percorsi che sono sganciati da qualsiasi logica istituzionale, questo purtroppo pergiudica un percorso che è già difficile di suo. È interesse di tutti che il percorso si conclude nei migliori dei modi per il rilancio di tutta l'area. Le polemiche sono sintomo di un dibattito attivo e di interesse sulla città metropolitana, quindi sono benvenute per Falcomatà. Il primo cittadino di Reggio Calabria è sereno e ribadisce che Reggio Calabria, città capoluogo, città capoluogo della futura città metropolitana, non sarà naturalmente gemone che la nuova città metropolitana si pone al servizio dei territori e dei comuni, anche dei comuni più piccoli. Proprio in questo senso che va letto questo primo incontro con i sindaci, che non vuole scavalcare nessuno e vuole avere rispetto di tutti i ruoli. Ecco perché anche con il presidente Raffa si è avuto modo di chiarire, non si vuole scavalcare nessuno, non si vogliono confondere i ruoli, ma era un giustissimo e doveroso incontro e confronto con gli altri colleghi sindaco per iniziare a capire proprio quali sono i timori che possono nascere sul processo di costituzione della città metropolitana che, lo ribadisco, deve vedere protagonisti prima di tutto i territori. La testa leonina è di epoca romana. Due anni e mezzo dal ritrovamento di diversi reperti nel mare, tra africo e bianco, gli esperti dell'Unica l'hanno presentato i risultati delle analisi a cui è stata sottoposta la testa leonina. Sentite. Sono passati oltre due anni e mezzo da quando nell'agosto del 2012 due sub per diletto trovarono una testa di leone in bronzo nel tratto di mare tra africo e bianco, in provincia di Reggio Calabria. Da allora il prezioso manufatto è stato studiato e analizzato nei laboratori del Dibest dell'Università della Calabria, che ha confermato l'autenticità storica della testa leonina in bronzo. I risultati della lunga e meticolosa ricerca sono stati ufficializzati questa mattina. Il reperto, dalle analisi effettuate, è sicuramente stato sommerso in ambiente marino ad una profondità superiore ai 40 metri per moltissimo tempo e di certo si tratta di un bronzo antico di epoca romana. Dal punto di vista scientifico questo è un lavoro di estremo interesse perché è stato un lavoro multidisciplinare. È venuto fuori che sicuramente si tratta di una patina di alterazione antica, i prodotti di corrosione sono antichi, i cementi che hanno concrezionato la maschera sono dei cementi primari, per formarsi hanno bisogno dell'ordine di centinaia di anni. La testa è stata sicuramente sepolta di fronte bianco e l'abbiamo dimostrato con delle tecniche molto accurate. Quindi questo era uno dei problemi, l'hanno trovata veramente lì, l'hanno spostata, chi lo sa. La testa è stata ritrovata lì, è stata... Poi abbiamo fatto un'analisi media della composizione chimica del bronzo confrontata con dei database internazionali e invien fuori che la composizione è compatibile con i bronzi di terra romana. Però l'ultima parola sulla datazione va alle sovrintendenze, non agli scienziati. Noi abbiamo degli indizi e insomma, però le cose concordano. Ed ora vediamo insieme le altre notizie di cronaca della giornata. Il Rotary Club di Vibo Valencia ha ricordato ed insignito la memoria della Polaris massimo riconoscimento il past president Francesco Marcello, deceduto il 31 agosto del 2013. La cerimonia si è svolta all'hotel 501, presenti tra gli altri la figlia dell'illustre scomparso, la socia Elvira e il nipote, il socio Francesco Arceri, accompagnato dalla moglie Gabriella. Il presidente del club Antonello Fusca, nel presentare l'evento, ha tratteggiato la prestigiosa figura di Francesco Marcello, elogiando tra l'altro il suo impegno rotariano. E' toccato poi al vicepresidente del Rotary Club, Giuseppe Sarlo, delineare il profilo rotariano e politico, all'ex dirigente scolastico Giuseppe Mazza, invece, quello professionale, e all'artista Antonio Lagamba, il Francesco Marcello, pittore e scultore. Sarà proiettato in anteprima al Marca di Catanzaro, ore 18, alla presenza del presidente dell'amministrazione provinciale Enzo Bruno, lo speciale Daniel Bioran al Parco della Scultura di Catanzaro, realizzato da SkyArte HD. Un ritratto di uno dei grandi maestri dell'arte contemporanea, l'artista delle strisce, le celebri bande verticali che vediamo in musei e siti pubblici di tutto il mondo. Il documentario lo mostra in Calabria, durante l'inaugurazione di un suo lavoro nel Parco Internazionale della Scultura di Catanzaro, un museo a cielo aperto, unico al mondo. Si rafforza la sinergia fra amministrazione comunale e Lega Nazionale di Lettanti. Domani sera alle 18.30 il presidente della Lega, Felice Bellolli, sarà ricevuto dal sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, e dall'assessore allo sport, Antonio Sgro. Alla visita istituzionale a Palazzo De Nobili, parteciperanno il vicepresidente nazionale vicario della Lega, Antonio Cosentino, e il presidente del comitato regionale della Federcalcio, Saverio Mirarchi. L'incontro è l'ennesimo passaggio di un duraturo percorso di collaborazione fra l'amministrazione guidata da Sergio Abramo e la Lega di Lettanti, che ha permesso, nel corso degli anni, la realizzazione di una struttura unica per il Meridione, come quella del Centro di Formazione Federale. Ed ora la pagina della cultura. La filarmonica del 22 febbraio eseguirà al Teatro Grandinetti di La Mezzia Terme la Sagra della Primavera di Igor Stravinsky, un pezzo tra i più difficili in assoluto del Novecento, al punto da essere considerato ineseguibile per tutti gli anni venti e ancora negli anni trenta. Il servizio è di Pasquale Motta. L'orchestra filarmonica della Calabria, il 22 febbraio, eseguirà al Teatro Grandinetti di La Mezzia Terme La Sagra della Primavera di Igor Stravinsky. L'iniziativa è stata presentata con una conferenza stampa indetta dall'Istituto Superiore di Studi Musicali Ciaikovsky di Nocella Terinese e organizzatore dell'evento, allo scopo di presentare il concerto. L'orchestra filarmonica della Calabria, sotto la direzione del maestro Filippo Arlia, porta in programma per la prima volta in Calabria uno dei pezzi sinfonici più difficili della storia del Novecento musicale, eseguito per la prima volta a Parigi il 29 maggio 1913. Un pezzo tra i più difficili in assoluto del Novecento, al punto da essere considerato ineseguibile per tutti gli anni venti e ancora negli anni trenta. Un evento dunque unico in Calabria, che i calabresi potranno godere al Teatro Grandinetti di La Mezzia il 22 febbraio, grazie all'impegno del Conservatorio Ciaikovsky di Nocella Terinese e dell'orchestra filarmonica della Calabria. Il principale oggetto della Sagra della Primavera è la fanciulla più bella del villaggio, o meglio la vergine più bella del villaggio, che praticamente viene scelta per ballare fino alla morte, per propiziare questa primavera. Quindi c'è anche un rito delle tribù che possiamo definire ancestrale. Ancora oggi chi la esegue trova questa miniera inesauribile sul ritmo, ma anzi tutto anche di un messaggio puramente sociale. E il dietro le quinte della Sagra della Primavera di Igor Stravinsky sarà oggetto della puntata dell'inviato speciale di questa sera, nel corso della quale il nostro Pasquale Motta incontrerà i protagonisti dell'evento. È veramente tutto, io vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento a domani con la rassegna stampa, vi ringrazio e una buona serata. Visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.